Non si ferma lo sgomento, non si arrestano le lacrime. La morte di Domenico Caglia è una perdita per il territorio. Ci sono persone che lasciano il segno e sono capaci di rappresentare un'intera collettività. L'ha detto ieri il Presidente della Regione, Luciano D'Alfonso, che assieme al Consigliere regionale, Andrea Gerosolimo, ha voluto abbracciare familiari di Domenico Caglia nel giorno dell'addio. Una presenza discreta e garbata, quella del Governatore, che definisce il Presidente della BCC l'emblema del territorio, un simbolo per la vallata. Credo che il Professore Caglia rappresenti un simbolo, un emblema di questa zona che si è messa in piedi con un progetto e lo ha saputo realizzare. La riprova e l'affetto che ha toccato con mano davanti alla Madonna della Libera, in piazza, a testimonianza di una riconoscenza generale. A rinnovare il cordoglio alla moglie Celza e ai parenti del gigante Domenico, il Sindaco di Pratola Peligni, Antonio De Crescentis, e la Vice Presidente della provincia Antonella di Nino, ha lasciato il segno nel territorio, ricorda il primo cittadino di Pratola. Non dimenticheremo mai il suo carisma e il suo stile. Domenico Caglia, prima che il Presidente è stato un uomo di esempio per tutta la comunità, e come dai riscontri che ho anche dagli altri sindaci, dalle persone di altre comunità, è sicuramente stata una persona che ha lasciato il segno anche nelle altre, in tutta la Valle Peligna. E' un lutto per la Valle Peligna, ribadisce invece la Di Nino, che chiamava Caglia sempre professore, da quando, in giovane età, frequentava la palestra. E' stato un uomo che ha sostenuto anche la mia scelta politica, continua la Di Nino. Quando presentai la mia candidatura nel 2010, negli studi di Onda TV, fu il primo a telefonarmi e a rassicurarmi che avrei fatto strada. Mi raccomandò di essere sempre me stessa. Un ricordo peraltro anche familiare, ci lega ormai una parentela attraverso la nipote con mio fratello, e per noi era uno di casa, lo sentivamo una persona vicinissima, infatti non muore soltanto il Presidente, ci lascia l'uomo, il Presidente e il Professore. Inizia dunque il viaggio di Caglia, un viaggio verso l'eternità, con l'ospicio che continua a guardare con benevolenza la Valle Peligna, per infondere coraggio a questo territorio.